I rappresentanti sindacali della Sixti ieri pomeriggio sono andati a colloquio dal presidente della regione Chiodi per spiegare le ragioni della crisi aziendale, ma soprattutto le potenzialità dello stabilimento di Chetiscalo, 414 operai specializzati che hanno sempre prodotto capi di qualità. L'azienda Tessile, gravata da un passivo di 300 milioni di euro e recentemente passata sotto il controllo di un fondo di investimento internazionale con sede alle isole Cayman, il Crescentide Park, non si è presentato alle riunioni convocate al Ministero dello Sviluppo Economico. Per questo i lavoratori e i loro sindacati hanno chiesto a Chiodi l'impegno affinché venga tentata ogni strada per salvare impianto e posti di lavoro. Dal canto suo, Chiodi ha affermato che se esiste un interesse per il sito di Via Piaggio si devono attentamente valutare le prospettive legate al piano industriale.